No, non ci credo, sono stato selezionato, no, oddio, sono stato selezionato dalla Sony, no, no, papa, no, papa, papa, vieni veloce, sono stato selezionato, papa, ce l'ho fatta, vai, cosa hai vinto? Papa, sono stato selezionato dalla Sony, no, ho vinto la nuova Playstation 5, vai, vai, papa, no, non ci credo, no, davvero, ma do, papa, l'ho acquistata, no, ma, ma do, sono il primo in Italia, ma grande, sì, ma come hai fatto? Eh, papa, hanno messo sta cosa per i primi che la compravano, l'ho presa, grande, grande, l'ho pagata 2.500 euro, però l'ho presa, no, dai, come 2.500 euro? Ma sei matto? Ma sono il primo in Italia, ma chi se ne frega il primo in Italia, ma chi se ne frega, come 2.500 euro? Perché ti arrabbi con me, ma pensavo di essere, devi essere felicissimo, ma ho capito, il primo in Italia, il primo in Italia, 2.500 euro, ma chi se ne frega, ma a me non mi interessa niente a 2.500 euro, Ma stai scherzando? Ma papa, ma io, è la mia Playstation 5, non ce l'ha nessuna niente a 2.500 euro, cancellalo quell'ordine lì, adesso non si può, ma ti pare, mi hanno selezionato, sono stato selezionato tra miliardi di persone, se adesso, ascolta, e se arriva quella roba lì, io giuro che te la spacco davanti ai tuoi occhi, perché è 2.500 euro, non puoi spenderla, hai capito? Ma tu sei fuori, ma è bellissima, ma chi se ne frega? Ma sono il primo, sai quanti video posso farci su Youtube, roba, i primi in Italia con la Playstation, no dai? Ascolta, io in quel cervello qua, se tu non lo metti a posto, perché devi metterlo a posto, non puoi, non puoi spender 2.000, tu non, non ti puoi arrabbiare con me, perché? Tu non ragioni più, tu non ragioni più, perché 2.500 euro per una pietra, tu non hai più il valore del solito, eri felice quando sei venuto qua? Io adesso questa roba qua te la metto in testa, te la metto, hai capito? Quando arriva, e ti faccio chiudere anche il canale adesso, perché mi sono rotto le scatole di tutte queste storie qua, non ne posso più, ma felice perché mi hai detto che l'hai vinta, ma non per con quel prezzo lì, hai capito? Vabbè, vinta, la dovrò pagare, mica mi regalano le cose, anche te. Ma che cosa vuol dire non ti regalano le cose, ma 2.500 euro, ma chi se ne frega di quella cosa lì, potevi aspettare che quando usciva costa 400 euro quella roba lì, cosa me ne frega a me che sei il primo da verla. Ma sono i primi in Italia, guarda, leggisci, ho scritto intrattenimento e gioco in 8K, ma chi se ne frega, può essere anche 10K, può essere 25K, questa roba qua, in casa qua non entra, giuro che quando arriva che la portano qua, giuro, la faccio volare giù dal balcone, però stavolta basta Simone, perché sinceramente io non ne posso più, guarda, tu mi fai venire un infarto, hai capito? Allora con te adesso io ti faccio chiudere il canale, almeno per 2 o 3 mesi, così almeno tu davanti qua non ci vieni più, perché ogni volta che vieni qua condini un guaio, non me ne frega niente, hai detto che ho vinto, ne vale tutti fino all'ultimo centesimo, ma che cosa vuol dire? Papà è il primo in Italia ad acquistare la Play, 5K, guarda, mi dispiace perché guarda, sinceramente, io arrivare a quel punto qua non ne posso più, quando arriva questa qua, io questa qua ti faccio pin 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 qua sulla testa, hai capito? Ma te lo faccio davvero adesso io, capito? Perché non ne posso più di queste storie qua, hai capito? Non ne posso davvero più Simone, io credevo che era l'ultima volta che hai capito le cose, ma tu continui a farmi tutte queste storie qua, che spendi di qua, spendi di qua, Simone, basta. Io adesso ho preso la decisione, se questa roba qua chiama qualcuno, non farmela arrivare, perché se arriva in casa, tu saluta tutti i tuoi follower, tutti quelli che hai, e io non ti faccio fare più niente su YouTube. Ma mi lasci parlare, ti prego, mi lasci, mi lasci parlare. Ascolta, tu puoi parlare quanto vuoi, ma adesso mi hai scocciato sinceramente. Ma no, dai, non dirmi così. Quella PlayStation qua, se entri in quella casa qua, non ci entra, chiaro? Io adesso basta, adesso io me ne vado, perché non ne posso più, ma la prossima volta che questo pacco qui, se la prossima volta che arriva qua in casa, giuro, faccio un video, che lo faccio volare giù dalla finestra, così almeno vediamo quante visualizzazioni fai. E questo non lo vedi più, perché tu hai perso il senso di che cosa vuol dire. Mi lasci parlare, però ti spiego, è l'unica cosa che è appena uscita, è nuovissima, ma siamo anche sotto Natale, almeno se ho sbagliato, pensavo di farti felice, perché me la prendi per Natale, ormai l'ho ordinata, ormai l'ho ordinata. Ascolta, dell'ordinata non me ne frega niente, tu non dovevi spendere quella cifra lì, questa qua costerà 400-500 euro, e tu non puoi spendere 2.500 euro. Sì, ma me li rifaccio facendo i video primi in Italia ad avere la PlayStation. Adesso quello che me ne frega è che tu hai speso 2.500 euro, e quelli non ci sono più, il resto non me ne frega niente, hai capito? Allora basta. Ma contiene, c'è la PS4 insieme al DualShock 5? La tua testa non contiene niente, la tua testa, pin pin qua, te la faccio in testa io, hai capito? Perché non va bene così. Hai capito? Allora basta. Adesso saluta tutti i tuoi amici e digli, glielo digli, te lo dico io, che, carissimo, questa roba qua, si entra in casa, vola giù dal balcone, e tu non fai neanche più un filmato su YouTube, non fai più niente. Va bene, va bene, è uno scherzo, guarda, metto F11, che è il tasto della F11, vi avvio la pagina web, della 4 ho modificato la pagina internet, non c'è la 5 ancora, non è uscita, ma tu non sei informato di niente, la 5 esce fra 2 mesi e non lo sai neanche. Ancora, bravo, bravo, complimenti che continui a fare scherzi avanti a destra e sempre, a prendere in giro la gente. Ma tu non sai neanche che esce la PlayStation 5 tra un mese, io te l'ho fatto, infatti ho detto ci cascherà di sicuro, infatti come un babbo ancora una volta c'è cascato. Va bene, continua sempre con i tuoi scherzi Simone, tanto eh, va bene, bravissimo, complimenti ancora un'altra volta eh. Vabbè, quando esce però me la prendi. Quando esce, sai cosa ti faccio? No, dai. Ti faccio il pin pin sulla testa, la PlayStation, hai capito? Dai, però, però... Adesso comincia a farla uscire che non è ancora uscita, e tanto adesso io me ne vado. E tanto tu pensavi che fosse uscita, non è uscita, adesso fa tutto il figo, non è uscita, 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 non è uscita. E ragazzoli, anche questo scherzo perfido ha funzionato. La cosa di modificare le pagine web ha funzionato prima con mia mamma, abbiamo visto, e oggi per la prima volta con mio papà, e c'è cascato al 7000 per mille. Ovviamente lui di informatica non ne capisce nulla, ma raga, ma prima cosa, quanti like dovete lasciare? Quante iscrizioni perché sono un cacchio di maestro? Cioè raga, quanto recito? Io devo andare a Hollywood, devo andare a Hollywood, voglio che scriviate nei commenti, vai ad Hollywood, perché raga, veramente, cioè, livelli di recitazione paurosi. Cioè, ma raga, non puoi non cascarci con la mia recitazione, cioè, ci casca anche uno che lo sa già, no, 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 non puoi, non puoi. Ragazzoli, quindi, niente, io spero che con questo video vi siate divertiti, avete fatto una risata, perché è quello il mio scopo. Ragazzoli, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like se giocate a Fortnite, ragazzoli, inserite il codice RIMO nel negozio oggetti di Fortnite, mi raccomando, ragazzoli. E, infine, se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella in linea del canale. Ragazzoli, voglio che commentiate sotto questo video il minuto in cui avete trovato un lama segreto che ho fatto apparire all'interno dello schermo, perché, appunto, ho fatto apparire un lama. Chi lo trova mi scriva il commento, un commento con il minuto, che poi, appunto, raga, lo saluto nel prossimo video. Io vi ringrazio di cuore per il supporto che mi state dando, mi raccomando, iscrizione e like, se no, ti troverai una... non riuscirai mai ad ottenere la PlayStation 5. Quindi lascia like! E dai, Bomberoni, io vi saluto, un bacione e un salutone dal vostro RIMO DIGNO. È tutto, e... bella, boys! Bomberoni, pensavi fosse finita in realtà la parte più succulenta per i più bravi ad arrivare fino alla fine video. È arrivata, perché, ragazzoli, sì, avete ben capito, ci sono in atto due contest sul mio canale. Uno per quelli che giocano a Fortnite e l'altro per quelli che non giocano a Fortnite. Per chi non gioca a Fortnite c'è in palio un contest di un mouse bellissimo, il mouse modelo dei pro player che lo usano per giocare. Veramente un mouse super leggero, 58 grammi di mouse. Lo potete vincere iscrivendovi al canale, lasciando un like e commentando qua sotto con voglio il mouse. Verrà estratto in live, nelle prossime live. E per chi, invece, gioca a Fortnite c'è in palio l'estrazione di un piccone minti. Il piccone rarissimo di Fortnite, che ormai è stato ritirato in tutti i GameStop d'Italia, che non si trova più. Io ho ancora un codice a disposizione che ve lo posso dare a qualcuno di voi. Quindi ragazzoli, sempre per partecipare dovete scrivere qui in descrizione, voglio il piccone, e commentare e lasciare un like e iscrivervi. Ragazzoli, vi ringrazio fino alla fine per essere rimasti in questo video. Ci aspettiamo nella prossima. Hashtag io non schippo per chi se l'ha guardato fino all'ultimo minuto. Ed è un bomber e lo seguo. Bella, boys! Ciao, ciao! Ciao! Ciao!